Che serve? Per difendere i propri diritti? Voi non state difendendo quelli che credete siano i vostri diritti? Io ad esempio sono una ragazza eterosessuale e difendo non i diritti degli omosessuali, difendo i diritti di tutti gli esseri umani e grido perché devono sentire tutti, grido perché devono sentire tutti, tutti devono sentire, questa è una grandissima pagliacciata e scagli la prima pietra che è senza peccato, la scagli, conto di me, la scagli.